Buonasera a tutti! Come ogni anno, anche per questo Halloween, ho deciso di realizzare un video molto speciale. Infatti, ricordando di quando ero bambino, vorrei parlare di un film che è davvero, davvero, ma davvero. Che diavolo? It's close to midnight, something leaves lurking in the dark. Under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but it don't take the sun before you make it. You start to freeze, as long as you're right between the eyes. You're paralyzed. Cause this is Thriller, Thriller night. And no one's gonna save you from the beast of a strike. You know it's Thriller, Thriller night. You're fighting for your life inside a killer. Thriller, Thriller night. They're in my cigarettes and kiss with me with 40 eyes, girl. Thriller, Thriller night. And you're fighting for your life inside a killer. Thriller, Thriller night. Cause I can think you won't have any good one ever dare to try. Thriller, 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 Thriller.. That is a prisoner, Thriller night. Cause i can think you won't have any good one ever dare to try. Thriller, Thriller, Thriller night. Just you just will. So let me hold you tight and shed a killer, Thriller.. Spero che il video vi sia piaciuto Parecchi anni fa, tantissimi, realizzai uno di questi per tributare Michael Jackson E ho sempre sostenuto che se la musica ha un dio, quello è proprio Michael Jackson Allo stesso tempo, in quegli anni, proprio a deteriorare la sua immagine Fin dopo la sua morte, giravano delle voci, delle voci che appunto lo accusavano di aver avuto una certa condotta nella sua vita Veramente brutta Sono passati più di undici anni E io all'epoca dissi che la mia, seppur essendo una goccia in mezzo all'oceano, voleva esserci Ecco, dopo più, forse anche di undici anni, oggi sento che quelle voci vengono smentite E addirittura viene detto l'opposto di quanto gli si accusava Io non so qual è la verità So solo che quella goccia, ancora oggi c'è, in questo video Era per lui e per la sua musica Grazie a tutti per aver visto questo video E... Buon Halloween Buon Halloween